e vai a portare l'arma seduto? vedi? ok ah capitai oh cari miseria mi ha ripreso un'altra volta nel tentativo di fuga ok? vai chiedi allora gli diamo il premio finale perché gli avrà la soddisfazione ok ok portalo fuori aspettate che c'è una sorpresona un attacco terribile abbiamo speso 10.000 euro per fare un coccodino così piccolo